Novità per i cittadini di Licinella Pestum, ma non solo. Qualche giorno fa sono stati trovati sulle loro spiagge dei fenicotteri rosa, un fenomeno insolito, difficile spiegarne il motivo. I fenicotteri più grandi si nutrono in habitat salini o desertici in prossimità di aree acquatiche e i loro nidi vengono realizzati con fango compatto. Il volatile inoltre tende a migrare per riprodursi e alimentarsi e verso zone umide. Cosa in particolare avrà attirato la loro attenzione nel cilento? Sarà il GIS, grazie ai suoi strumenti, che identificherà la sua rotta e per quale motivo è atterrato in questa zona.